Musica Manuela ci spiega come si vota per le elezioni comunali Allora, per il comune avremo una scheda azzurra Bisogna mettere una X sul singolo Ok Preferibilmente anche sul nome di Marcello De Vito Perfetto, si possono dare preferenze? Certo Quest'anno, per la prima volta, si possono dare due preferenze Però devono essere un maschio e una femmina Quindi, se voi mettete due maschi, il secondo viene annullato La stessa cosa se mettete due donne, la seconda verrà annullata Quindi o solo un maschio o solo una femmina O maschio e femmina Oppure nessuno Oppure nessuno, solo le X La stessa cosa, faccio vedere anche la scheda municipale Qui per il decimo municipio abbiamo come presidente Paolo Ferrara Movimento e la stessa cosa vale per il municipio Grazie